Bella Wajun, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction Lazio-Napoli Partita difficilissima perché veniamo già da una scorsa partita che abbiamo giocato mercoledì Penso che è la partita più difficile che affrontiamo dall'inizio del campionato Quindi vediamo se ci facciamo valere oggi Non come collegi, noi ci vediamo con il match, speriamo di vincere Di già, di già, questo non ha mai segnato dall'inizio della stagione, non ha mai segnato Subito, subito così Ma noi ci vogliamo presentare Mamma mia, mazzechiamo un passaggio, mazzechiamo un passaggio Mamma mia, mamma mia Guarda la Wajun, bravo Di Lorenzo, bravo Di Lorenzo Non c'è niente da fare Vai Kvara Mannaggia, 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 mannaggia Sì, una avevamo buona, una, 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 l'hai sprecata così Vai Kvara È gol Ma no, ma no, due palle È gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol Sbagliavano, non sbagliavano, non sbagliavano ogni passaggio, era paura Poi siamo cresciuti nel finale Prima che si facesse male Lozano Hanno entrato Politano Quindi speriamo nel secondo tempo di fare meglio e ritornare più aggressivi Vai Polità, vai Polità Vai Polità Vai Polità Vai Kvara, Kvara No Kvara, no Kvara, no Kvara No, 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 no Questo no Kvara Sì è lui No, no, no È so due casi mi spiegate So due Però so di telecronista quando gioca la Lazio Usimen Palo 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 Ma cosa stiamo vedendo Cosa stiamo vedendo Palo, due gol mangiati Continuisce Zielu Noo 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 Queste ce ne mentiremo di queste quattro occasioni mangiate Ma come la dobbiamo, come dobbiamo segnare? Come dobbiamo segnare? Così man Noo Che ha preso Radu Noo Dai Dai Kim Sì 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 Kvara 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 Bravi 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 Ce l'abbiamo fatta a segnare il secondo gol Andiamo Andiamo Aspetta Com'era? Sì Bravo Caraschelio Bravo Bravo Siamo Per il momento dominando Quindi continuate ad avere testa Ecco Guarda Oh Fuori gioco Mamma mia Meno male che era fuori gioco Meno male Mamma mia Ho sudato Siamo attenti Dobbiamo continuare a giocare Come stiamo facendo Non c'è niente Dai ragazzi Ma questo non è mai rigore Non è mai rigore questo Non è mai rigore Dai Non scherziamo Bravo Meretto Bravo Meretto Adesso è difficile Dai ragazzi Va Osimeno Va Mannaggia a te Osimeno Mannaggia Queste sono casini da mettere dentro Soprattutto in questo momento Mamma mia Mamma mia Che si è mangiato Pedro Dai Quattro minuti Dai La seconda soluzione Sì Sì Lazio Questo di meriti Vincevi e insultato Per tutta la partita Questo di meriti Una rimontata E vai a casa con 0 punti Abbiamo dominato Grande Napoli All'inizio abbiamo fatto male Ma dopo Sempre Bene Da Dopo il gol Di Da dopo il gol Di Kalascheglia Eh Di Di Kim Abbiamo fatto bene Quindi Noi ci vediamo Con la reaction Napoli Liverpool Lasciate un bel mi piace Come i commenti Scrivete al canale Ci becchiamo Un prossimo video Bella ragazzi